Ciao e benvenuto o bentornato o bentornata sul mio canale Corso di Tromba. Questo video è un video molto particolare perché si tratta di un test autovalutativo per principianti. L'obiettivo di questo video, infatti, è quello di aiutarti a renderti consapevole del tuo talento musicale. Infatti quello del talento musicale è uno degli argomenti che mi viene richiesto praticamente tutte le volte quando c'è qualcuno che vuole cominciare a suonare la tromba ma magari è già adulto perché i bambini di solito, anche i genitori, non gli si dice ah ma guarda che non hai talento musicale, gli si dice ma tanto impari. Quando invece uno è già adulto pensa di non essere in grado di farlo e quindi io ho preparato questo test proprio per farti capire, renderti un po' più consapevole di a che punto sei, dove sei arrivato nel tuo percorso di consapevolezza musicale. Ci tengo a precisare e a ribadire che questo test è per principianti, quindi se tu sei già un musicista, magari anche amatoriale, che suona in un'associazione o comunque che è già diversi anni che studia, probabilmente risponderai correttamente a tutte le domande che in particolar modo sono dieci e ora ti vado a spiegare come funziona. Questo test è diviso in quattro parti. Ci saranno dieci domande che ti permetteranno di avere una consapevolezza maggiore come principiante riguardo alla tua capacità di assimilare ritmi uguali o diversi, riconoscere altezze diverse dei suoni, la tua consapevolezza armonica, quindi avere la capacità di riconoscere quante note ci sono in un accordo. Ti ricordo che questo è un test per principianti, quindi non andremo a sondare nel dettaglio che tipo di rapporto armonico c'è fra una nota e l'altra. E infine ci sarà un'ultima domanda, un ultimo test per riconoscere tutti gli elementi visti precedentemente, quindi sentirai una melodia e dovrai saper riconoscere se l'altezza dei suoni e anche il ritmo corrisponde fra le due melodie che sentirai. Quindi si tratta di un riassunto delle tre parti precedenti del test. E allora direi di cominciare subito. La prima parte del test, come ti ho già anticipato, riguarda la parte ritmica, quindi sentirai due modelli, il primo e il secondo. Dovrai essere in grado di distinguere se questi modelli sono uguali oppure diversi. Ok, quindi questi due ritmi com'erano? Erano uguali o diversi? Se non hai ancora dato la risposta, metti in pausa un attimo perché ti sto a svelare, la risposta è diversi. Infatti il primo ritmo era pausa, pausa. Il secondo ritmo invece era pausa. Quindi il primo era 1, 2, 3, pausa, pausa, 1, 2, 3. Il secondo 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2. Ok, quindi ora annota se hai dato la risposta corretta o errata alla domanda perché poi alla fine ti dirò il punteggio delle varie domande che hanno valori diversi e faremo poi il conto delle risposte giuste. E questo è il secondo. Ok, come sono questi due ritmi? La risposta corretta è diversi. Annota se hai risposto correttamente alla domanda, quindi se avevi intuito che i ritmi erano diversi. Il test numero 3 è leggermente più complicato dei due test precedenti. Infatti fra un'esecuzione e l'altra, anziché esserci un piccolo spazio di solo i due secondi, ci saranno 5 secondi di vuoto. In questo modo dovrai ricordarti il primo modello ritmico e poi dopo 5 secondi vedere se te lo ricorderai ancora. Quindi per la memoria ritmica. Sei pronto? Test numero 3. Molto bene, la risposta corretta al test numero 3 è uguale. Infatti i due ritmi sono esattamente gli stessi, sono uguali uno all'altro. La prima parte del test è andata, complimenti, ricordati di segnarti tutte le risposte che hai dato. Proseguiamo con la parte armonica, ci addentriamo. In particolar modo testiamo la tua capacità di riconoscere note ad altezze diverse, quindi sentirai una prima nota e successivamente ci sarà una seconda nota che dovrai essere in grado di riconoscere se è più alta, acuta, più bassa, grave, oppure uguale alla nota precedente. Ok, la risposta esatta al test numero 4 è più grave, più bassa. Infatti la seconda nota era più bassa, più grave della prima. Test numero 5. La risposta esatta al test numero 5 è acuta. Infatti la seconda nota è più acuta rispetto alla prima che hai sentito. E ora passiamo al test numero 6 e anche qui facciamo una piccola variazione, cioè cerchiamo di rendere il test un po' più accattivante, quindi di renderci conto se non solo sei in grado di riconoscere l'altezza diversa dei suoni, ma c'è anche la cosiddetta memoria dell'intonazione. Quindi se dopo qualche secondo sei in grado di ricordarti la prima nota. Via col test numero 6. La risposta corretta è anche qui più acuta, infatti la seconda nota era più acuta rispetto alla prima. Ok, molto bene. Prima di continuare con la quarta parte desidero solamente ricordarti che questo test autovalutativo per principianti ha l'obiettivo di aiutarti a capire se sei in grado di affrontare il livello base del videocorso da 0 a 100. Si tratta di un videocorso specifico per principianti o chi comincia da 0 che ti darà la possibilità grazie a 35 video lezioni di imparare a suonare la tromba. Inoltre ci sono anche quasi un'ora di play along, un libro dedicato e molte altre cose che puoi approfondire se ti interessa. Ora continuiamo e finiamo questo test autovalutativo. Ok, per i prossimi tre test l'obiettivo sarà quello di riconoscere quante note ci sono nell'accordo. Sentirai una, due, tre, quattro, cinque note, chi lo sa, e dovrai scrivere quante note senti. Alla fine ti darò la soluzione. Via col test numero 7. Ok, quante note hai sentito? La risposta corretta è 2. Test numero 8. Questo è decisamente più difficile. Molto bene, quante note hai sentito in questo accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6? La risposta corretta è 4. Test numero 9. Questo può sembrare semplice ma fai attenzione perché a volte può confondere. via col test. La risposta esatta è 2. Infatti è la stessa nota ma riproposta ad un'ottava superiore. Ottimo, molto bene. Siamo arrivati alla fine di questo test. L'ultima parte, l'ultima domanda è la più difficile. Infatti va a riassumere la prima e la seconda parte insieme. Che cosa significa? Significa che sentirai due melodie e dovrai essere in grado di riconoscere se entrambe le melodie hanno le stesse note e lo stesso ritmo. Quindi se l'intonazione delle note della prima melodia e della seconda sono le stesse, se hanno le stesse note e se il ritmo che senti è uguale anche per la seconda. test numero 9. Ottimo, questo era un test difficile. La risposta corretta era diverse. Infatti queste due melodie che hai sentito erano diverse. Il test ora è finito. Andiamo a fare il conteggio delle risposte giuste che hai dato. Quindi prendi il tuo foglio e cominciamo. Al primo test, al primo quesito, anzi i primi due test valevano un punto ciascuno. Quindi se hai fatto giusto le prime due domande assegnati due punti. Il test numero 3 valeva due punti. Il test 4 e 5 valevano un punto. I test 6, 7, 8 valevano due punti. Il test 9 valeva 1,5 punti. L'ultimo test, il numero 10, valeva 2,5 punti in quanto era il più difficile chiaramente. In totale quindi se hai risposto correttamente a tutte le domande dovresti aver accumulato 16 punti. A questo punto se hai totalizzato almeno 11 punti puoi tranquillamente acquistare il livello base del videocorso da 0 a 100. Infatti queste conoscenze che hai sono più che sufficienti per affrontare autonomamente il videocorso. Al contrario se hai totalizzato da 0 a 10 punti allora io ti consiglio calorosamente di magari acquistare la membership quella premium del mio sito che ti permette di fare lezioni frontali tutte le settimane e solo successivamente puoi magari passare allo studio autonomo con il videocorso da 0 a 100. Ti ricordo che i benefici del livello base del videocorso da 0 a 100 sono innumerevoli. Infatti ti aiuterò ad emettere un suono pieno intonato imparando tutte le posizioni della tromba così che serai effettivamente in grado di suonare autonomamente i tuoi brani preferiti. Inoltre grazie a questo corso avrai a disposizione anche 30 minuti di lezione online per risolvere ogni possibile dubbio che potresti avere durante il videocorso. Ma non solo c'è anche una sezione dedicata all'interno del sito, un forum dove puoi confrontarti con la community e una chat dal vivo dove sono sempre disponibili per eventuali chiarimenti. Puoi chiedere direttamente a me nella chat del sito se qualcosa non sta funzionando a dovere, mi mandi un messaggio e io ti rispondo. Attualmente c'è in atto una promozione esclusivamente fino al 10 novembre 2023, quindi ancora per qualche mese. La cosa interessante è che io faccio come Iliad che acquisti una promozione a 6 euro al mese e rimane per sempre. Anche per te è la stessa cosa, se acquisterai adesso la promozione delle lezioni online il prezzo non cambierà più per sempre. Quindi anche se fra un anno, due anni, tre anni i prezzi all'interno del sito aumenteranno, tu pagherai sempre quella cifra che hai segnato sul sito adesso. Spero di vederti presto all'interno di qualche videocorso o nelle lezioni online. Ti ricordo che puoi iscriverti alla newsletter per ricevere sconti, promozioni o quant'altro. Insomma, i contenuti che offre il sito corso di eutromo.com sono veramente tantissimi. Io ti ringrazio del tuo tempo, ci vediamo presto, ciao!